Mio marito vorrebbe chiamare il bambino come suo nonno Rosario, io come mio nonno Marino. Chiamatelo Rosmarino! Papà! 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 Che c'è? Stai dormendo? Sai perché mi siedo sempre nell'ultima fila agli spettacoli comici? No, perché? Perché ride bene, chi ride è ultimo! Hahaha! Rotolo! Come mai siamo venuti in montagna vestiti da re? Per fare trekking! Perché questi due panini ci stanno sempre a fianco? Perché siamo trapani! Ho bisogno di vitamina D! Dormire, denaro, dolci... Ti vedo scossa! Stai tranquilla! Cosa hai fatto al braccio? Andai alla concessionaria Nissan! Kashkai! Mio marito vorrebbe chiamare il bambino come suo nonno Rosario, io come mio nonno Marino! Chiamatelo Rosmarino! Papà! 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 Che c'è? Stai dormendo? Sai perché mi siedo sempre nell'ultima fila agli spettacoli comici? No, perché? Perché ride bene, chi ride è ultimo! Hahaha! Rotolo! Come mai siamo venuti in montagna vestiti da re? Per fare trekking! Perché questi due panini ci stanno sempre a fianco? Perché siamo trapani! Ho bisogno di vitamina D! Dormire, denaro, dolci... Ti vedo scossa! Stai tranquilla! Ok! Cos'hai fatto al braccio? Andai alla concessionaria Nissan! Kashkai!